Allora, prima che comincia il video, vogliamo dirvi che tra un'ora, cioè non proprio in questo momento, ma tra un'ora siamo su Mikorl, quindi venite con la parola chiave, Grananas, e niente, e ci vediamo su Mikorl tra un'ora, un'ora, se lo state vedendo alle tre, se no, non so, secondo l'ora che stai... Vabbè, ai quattro stavo su Mikorl, è buono a dirlo, dai, su, ciao! Ciao! No, bella vecchi dravani, bella vecchi dravani, sempre. Siamo tornati con Cleverbot. Sì, e niente, oggi prende l'iniziativa. Perché? Perché sì, ma buraccia, buracci, cioè, c'è un giapponano in inglese un tivo, eh! What does that do? Don't touch my tralala. La la la. Tralala la la. Don't touch what? My tralala la la. Mai, pisello. Mi, mi pisello. Mi pisello. What is the divino? No, io sono Davidino. Ciao, io devo andare. Sì, cazzi, scusa, eh. Beh, ciao. Voglio bene. Anche io. Vabbè, potresti allargare, però, eh. Leggermente. Leggermente. Va, ti amino, ti amo di bene. Stai fly, stai fly in centro al cazzo. Io tambien. Anche io, come ti chiami? Vedi? Mi chiamo Lillo. Se te lo dè il culo, dillo. E chi sei? Un chiavo. Per chi non conosce Giavator, non... Bianca. No, un cico. E tu, Stainello, facce tarza. No, ho capito. Pianello, facce tarza. Facce tarza. Va, Romana, facce tarza. Sono? Bello. Volevo dire. Ovviamente. Io. Vagabondo, che son io. Anima. Klaus. Klaus. Anima mia. Klaus, Klaus, Klaus. Dread, dread, dread. Dead, 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 dead. Walking. 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 Allora, ma se... Car vuol dire... Macchina. E man uomo. Mia nonna... Carmen. È un transformer. Sì, facciamo le domande delle fuck stupide qui. Questa dovrebbe essere la risposta che diamo in tutti i fuck, praticamente. E se... O porco ha una penna. E se o porco ha una penna. Di chi è la penna? O porco è vecchia quanto... E se Maria si mette su Pina. Pina muore. E se o porco ha una penna. 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 Ok, se o porco ha una penna. Tra l'altro. Che non so manco che cazzo vorrei dire. Però so leggere il francese. Isis. 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 Nasce, non si scrive con la I. Sti cazzi. Che cazzo ci prega. Grazie per l'info. Oddio muore. Parliamo di politica perché lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Isis. Ecco cosa ne penso. Vabbè ma che... A questo punto devi scrivere Putin. Isis che... Certo. Sì. Of course. Chi ti ha detto che sono una donna? Sono dietro di te. In tutti i sensi. No, io se mi avevo di te hai una felpa gialla. È rosa e grigia tranquillo. No. No. Cioè è veramente triste. Io non lavo la lavapiati. Povera lavapiati. Quindi te lavi i piatti. Lui che lava i piatti. Sì. Ma che qua fa fanguroa. Ti amo ti chieres casar conmigo. Mazza ma che è tutto in fuoco so. Non so così. No. Mero è un piste del carasone. E tu è il cazzone. Sì, tengo il corasone. E io è un cazzone che lascio così. E io è il cazzone. Ma chi ne so chi è? Sap. Sap. Io. Ma sono detto sempre. Ciao. Sai che ti ho... No e non me ne prega un emerito cazzo di un cazzo. Che cavaliere di cazzo. Di un buddissimo cazzo. 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 Ci vediamo dopo. Scusa. Ciao. Ciao. Che non vuoi parlare con me? Ciao. Perché cambi sempre discorso? Ciao. Allora. Mentre noi cerchiamo di fare l'altro. Ciao. Ciao. Sì. Mentre noi cerchiamo di fare l'altro. E praticamente. Praticamente. Stiamo salutando. Sì. Se vi è piaciuto questo video. Lasciamo tipo. Ciao. 3000 like. Quanti? Quanti ho detto 4? 4000 like. No no. 4 like. Ciao. Oddio che palla. 4000 like per favore. Sennò distruggo questo cazzo. Eh sì. Noi ci vediamo. Ciao. Oh. Bravo. Ciao. Niente. Quindi noi. Grazie. Bella. Noi vi ho beccato al prossimo video. E niente. Ciao. Noi vi ho beccato al prossimo video. Ciao. 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 . Ciao. Grazie a tutti.